Sono Kelly Simone, sono titolare della GBC Seramenti e ho conosciuto Guido tramite il sito internet posacurificata.it Allora, rispetto a altri corsi del nostro settore ho trovato degli spunti più pratici che posso utilizzare per organizzare meglio la nostra azienda. Sicuramente cercare di mettere in pratica tutto quello che abbiamo visto in questi giorni a livello di organizzazione proprio aziendale, che è quello di cui abbiamo più bisogno. Di Guido penso che come formatore può dare sicuramente il suo contributo perché in prima persona si è occupato di questo. Sicuramente il fatto di essere a contatto con altri colleghi in un ambiente come questo ci permette di confrontarci su dei problemi comuni che abbiamo e di cercare di superare questi ostacoli. Consiglierei questo corso per capire meglio quali sono i prossimi passi da fare per una crescita aziendale. Consiglierei questo corso per la crescita aziendale.